Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, oggi siamo allonato a girare test con Omar, figlio del meccanico, per migliorare sulla guida e guardate il video e capirete un po', vi lascio al video. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma l'ha tirata? Sì Ragazzi per questo video è tutto Lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Grazie a tutti